Buongiorno, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano per la gara del campionato provinciale categoria giovanissimi Under 15 Virtus Castelfrentano Torre Bruna. Il direttore di gara e di sesso femminile, due tempi di 35 minuti. La Virtus Castelfrentano gioca con la divisa giallorossa, fa fresco, sicuramente la temperatura seppure segna sui 4-5 gradi viene percepita a 0 gradi e meno uno. Ecco sta entrando il Torre Bruna che gioca con la divisa Granata e gialla, ma pantaloncini sono Granata, calzettoni Granata. Fra poco inizierà la gara, facciamo l'entrata in campo. C'è anche una ragazza di sesso femminile con Torre Bruna che parte dalla panchina. ecco vediamo questa entrata in campo Virtus Castelfrentano Torre Bruna per il campionato provinciale di categoria Giovanissimi Under 15. Direttore di gara e della sezione AIA di Lanciano il campo è molto pesante, è piovuto che questa notte. è molto più pesante. Ecco c'è uno scambio dei saluti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.